Bentornati a Il Verde e Il Blu, la nostra miniserie dedicata a questi due colori, il verde della sostenibilità e il blu dell'innovazione, del digitale. Dopo esserci occupati della sostenibilità del verde, questa volta ci occupiamo di innovazione, di digitale e ci occupiamo in particolare di intelligenza artificiale, non soltanto degli impatti che avrà in futuro ma di quelli che già sta avendo. Lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento, do il benvenuto e ringrazio Claudio De Paoli, responsabile del Centro d'Eccellenza BIP Cybersec, benvenuto. Buonasera. Vi presento Marco Taic, docente del Politecnico di Milano e presidente di Mix Made in Italy, circolare e sostenibile, benvenuto. Grazie per l'invito, buonasera. Un benvenuto anche ad Antonio Corgi, responsabile del Centro d'Eccellenza BIP XTEC, benvenuto. Grazie, buonasera. E un benvenuto in collegamento con noi anche alla professoressa Anna Vaccarelli, dirigente tecnologo dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa e responsabile relazioni esterne di Registro.it. Benvenuta. Vorrei partire proprio da lei, Vaccarelli, perché sentiamo parlare ovunque di intelligenza artificiale. Vorrei chiederle perché una tecnologia che esiste da decine di anni è diventata così centrale. Diciamo, l'intelligenza artificiale è nata, almeno la prima definizione di intelligenza artificiale risale al 1956, quando un informatico, John McCarthy all'epoca statunitense, propose a dei colleghi di organizzare una conferenza al Dartmouth College, che durò due mesi e tutti i partecipanti ragionavano su questo tema. Quindi la prima volta che è stata nominata, denominata intelligenza artificiale, è stata in questa occasione. Ma già nel 1950 Alan Turing definì quello che è conosciuto come il test di Turing, in base al quale un umano poteva interrogare due interlocutori senza vederli, uno dei due doveva essere un'intelligenza artificiale, un computer, e l'altro un umano. Nel caso in cui non fosse riuscito a distinguere l'umano dal computer, in quel caso si poteva dire che il test era stato superato con successo dal computer perché diventava indistinguibile dall'umano. Queste quindi sono le premesse dell'intelligenza artificiale, che è stata sviluppata poi molto negli anni successivi. Il momento di svolta nell'immaginario collettivo, diciamo così, per parlare di intelligenza artificiale, si ha nel 68, quando esce il film 2001 Odissea nello spazio, dove c'è il famoso computer Hall, che sembra essere un computer senziente, quindi l'idea dell'intelligenza artificiale arriva un pochino a tutti. Finalmente nel 2000 si sviluppano, nascono e si sviluppano le reti neurali profonde, le Deep Neural Network, che hanno la capacità di analizzare enormi quantità di dati e finalmente comincia ad esserci una potenza di calcolo adeguata per poter applicare nella pratica questi algoritmi che erano stati immaginati. Questo miglioramento dal punto di vista della potenza di calcolo accade grazie alle cosiddette Graphic Processing Unit, che sono delle CPU, dei microprocessori, dedicati all'elaborazione grafica, che era un'attività che all'epoca richiedeva molte risorse, le richiede anche adesso diciamo molte più risorse di altri processi. Quindi sfruttando questi microprocessori nel campo delle reti neurali fu possibile ottenere dei risultati più significativi, per cui alcune aziende, tra cui Google, Microsoft, Facebook, cominciarono a pensare che questo argomento fosse interessante e investirono in questo settore. Poi nel 2011 ci fu Watson, che era un computer che rispondeva a domande poste in linguaggio naturale, quindi in linguaggio umano, che sconfisse i campioni del gioco Geopardy. I risultati poi positivi divennero di, diciamo, dominio pubblico, non come per 2001 di Sia nello spazio, ma comunque per un vasto pubblico interessato all'argomento, quando a un certo punto in una competizione che si svolgeva dal 2010 per testare algoritmi in grado di fare elaborazioni, risolvere problemi complessi relativamente all'elaborazione di immagini, che era la ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, per gli amici ImageNet e basta, e praticamente arriviamo ai giorni nostri, quindi vado a rispondere definitivamente alla domanda. Nel 2020 nasce ChatGPT, che è lo strumento che ha portato l'intelligenza artificiale nelle case di tutti. Perché è possibile quindi che oggi sia così diffusa? Perché le reti neurali sono partite da primi tentativi negli anni Sessanta, successive modifiche e miglioramenti, fino alle Deep Neural Network e le Large Language Model, e possono accedere a risorse di calcolo più che sufficienti per svolgere questo compito. perché quello che fanno queste intelligenze artificiali è analizzare enormi quantità di dati, cosa che non sarebbe stata possibile 40 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, e fanno in un tempo veloce. Perciò offrono una serie di risultati che sembrano sorprendenti in tempi brevissimi e danno l'impressione di avere a che fare con una controparte quasi umana. Ecco, e siamo anche ai giorni nostri al dibattito sulla regolamentazione di questa tecnologia. Nelle ultime settimane abbiamo sentito il Via Libera di Bruxelles, l'AI Act. Allora vengo da lei, Corgi, per capire che impatto può avere una regolamentazione di questo tipo sulla transizione digitale. Chiaramente ci sono molti impatti con diverse sfaccettature da analizzare. Prima di entrare sugli impatti, magari mi piace sottolineare l'importanza e la rilevanza di questo AI Act appena approvato da una discussione di oltre tre giorni tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo a inizio dicembre, nella diciamo versione, nella bozza definitiva che dovrebbe poi essere pubblicata a gennaio per poi avere un periodo di attuazione all'interno dei prossimi due anni, quindi per arrivare a una piena attuazione nel 2026. È un framework che classifica gli impieghi dell'intelligenza artificiale in funzione dei livelli di rischio che le varie applicazioni comportano, da quello che si chiama il rischio inaccettabile e non accettabile a un rischio minimale. Chiaramente, diciamo, questo framework impatterà tutto quello che è relativo alle applicazioni di intelligenza artificiale all'interno della transizione digitale. Nello specifico ci sono almeno tre aspetti importanti che vedo. Il primo è un aspetto della fiducia che avere un quadro normativo così costruito comporterà da parte dei consumatori delle applicazioni, degli utilizzatori in generale, delle applicazioni di intelligenza artificiale. Questo tipo di fiducia in virtù del fatto che all'interno del framework ci sono tutta una serie di aspetti relativi alla non discriminazione, all'equità e all'equilibrio dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale e anche al fatto che questi contenuti siano in qualche modo allineati da un punto di vista etico con quelle che sono le normative dell'Europa. Quindi la fiducia innanzitutto genererà una domanda sempre più costante per questo tipo di servizi e quindi anche in logica di trasformazione e transizione digitale. Dall'altra parte c'è un tema di standard. Gli standard, considerate che all'interno dell'AI Act c'è anche la cosiddetta marcatura CE, questo consentirà a chi sviluppa applicazioni e servizi basati su intelligenza artificiale di avvalersi di processi e procedure consolidate, anche qui accelerandone l'adozione. L'ultimo aspetto che mi piace sottolineare è l'aspetto sul mercato del lavoro. È di fatto un quadro regolatorio che consentirà di avere nuove tipologie di lavoro, nuove professionalità, a partire dalle persone specializzate sul governo dell'intelligenza artificiale, sulla valutazione dei rischi e delle compliance dei modelli di intelligenza artificiale rispetto al framework ma anche rispetto a tutte le tematiche di etica. Quindi in sostanza è una normativa che vediamo equilibrata e volta in qualche modo a favorire un'accelerazione di tutti quelli che sono gli aspetti che vedono l'impiego dell'intelligenza artificiale all'interno della transizione digitale. Interessante come sottolineava anche lei l'aspetto del mondo del lavoro che è quello su cui c'è maggiore attenzione quando parliamo anche di intelligenza artificiale. Vengo da lei, Taiz, per capire invece nel mondo dell'industria che impatto ha l'intelligenza artificiale. Si parla anche di metaverso industriale. Come funziona? Che cosa è? L'impatto sarà fondamentale. Noi dobbiamo immaginare che l'Italia ha il 55% del proprio PIL che dipende dal manifatturiero. Quindi essere competitivi a livello internazionale vuol dire rimanere tra le prime potenze industriali del mondo. Purtroppo l'Italia non è cresciuta negli ultimi 20 anni da questo punto di vista. Quindi l'uso dell'intelligenza artificiale vuol dire far meglio in maniera più veloce, più produttiva, a costi più bassi, quello che già oggi noi sappiamo fare. Analizzare i dati di come le nostre fabbriche si comportino, di come le nostre macchine operino, ma soprattutto andare a prevenire quelli che sono i punti di difetti, per esempio, dei nostri prodotti. Quindi intervenire su quella che oggi viene chiamata la manutenzione predittiva diventa fondamentale per mantenere questa competitività. Quindi l'uso dell'intelligenza artificiale diventa, a mio avviso, oggi l'unico modo per rimanere competitivi a livello internazionale. Questo non può non essere considerato insieme a un'altra tecnologia che si sta affermando. Anche questa è nata, se vogliamo, un po' per scherzo, un po' per gioco. Il metaverso oggi siamo abituati a pensare a degli ambienti più che altro utilizzati per i game, per i giochi, in cui abbiamo un nostro avatar. E questo è sicuramente un aspetto, ma poi c'è un aspetto, lasciatemi dire, più serio di questa tecnologia. Cioè vuol dire creare degli ambienti virtuali nei quali è possibile andare a provare, a testare un prodotto prima di lanciarlo sul mercato. Provate a immaginare che cosa voglia dire questo in termini di riduzione degli errori. Non devo fare il prodotto, non devo produrlo, non devono passare delle settimane, dei mesi prima che arrivi sul mercato per sapere se il mercato lo apprezzerà o meno. Lo posso realizzare in maniera digitale in questo mondo virtuale. La stessa cosa la possiamo fare quando ridisegniamo le nostre fabbriche, i nostri ambienti di lavoro. Anziché realizzare dei cosiddetti mock-up, possiamo farli in una maniera digitale. Questo vuol dire tempi molto più veloci, vuol dire riduzione dei costi e vuol dire evidentemente il fatto di riuscire a essere più produttivi che quello che abbiamo detto prima. Le due tecnologie, metaverso da un lato e l'intelligenza artificiale dall'altra parte, dovremo vederle in qualche modo affiancate l'una rispetto all'altra. Quindi sicuramente è bene parlare oggi di intelligenza artificiale, di intelligenza artificiale generativa. Non dobbiamo dimenticarci tutto il mondo del virtuale che diventerà fondamentale per la competitività del Paese Italia. De Paoli, andiamo invece ai rischi dell'intelligenza artificiale. Chi si occupa di cyber security sta già monitorando quali sono le conseguenze e gli impatti dell'utilizzo di questa tecnologia? Ovviamente sì e devo dire anche grazie alla professoressa possiamo anche collocarle un po' questi interventi perché da quando esistono i primi algoritmi di intelligenza artificiale esistono ovviamente i primi breach, i primi tentativi di attacco rispetto a diversi sistemi. L'intelligenza artificiale è usata molto anche per proteggere diversi software. è usata per esempio durante la verifica di transazioni economiche nel mondo finance, è usata per esempio nella identificazione degli utenti in maniera tale che effettivamente si riesca a capire se dietro al computer c'è veramente Claudio De Paoli o qualche altra persona. E già questi sistemi sono stati oggetto di attacchi, quindi dietro questi sistemi c'erano tecnologie di intelligenza artificiale basate magari su algoritmi diciamo di una generazione precedente e questi algoritmi conoscendoli chi attacca li può in qualche modo eludere immaginando quale potrebbero essere diciamo le attività che fa un engine di intelligenza artificiale e facendo in modo che possono eluderli. La difficoltà di questa rincorsa fra chi attacca e chi cerca di difendersi è nella diffusione oggi di questi sistemi. Oggi questi sistemi di intelligenza artificiale, lo citava poco anzi anche il professore, di fatto sono anche all'interno di sistemi industriali, proteggono o fanno un monitoraggio di sistemi di infrastrutture critiche, li troviamo all'interno di sistemi di trasporto, quindi i rischi sono molto più aumentati e c'è un interesse da parte di chi attacca che è sempre più importante. Quindi sì, sono nati e stanno nascendo diversi standard che consentono di accompagnare il processo di sviluppo di questi sistemi per essere certi che quando poi si vanno, e certamente l'AI Act ma diciamo oltreoceano il NIST ha sviluppato un framework altrettanto importante, così come ci sono organismi come il Mitre che ha sviluppato un framework proprio per essere certi di monitorare quali sono gli attacchi, sviluppare delle tecniche di sviluppo che siano effettivamente in grado di proteggere questi sistemi nel tempo. Abbiamo sentito alcuni dei potenziali rischi, Vaccarelli torno da lei perché l'AI Act si occupa anche di alcuni aspetti legati alla sicurezza, però sappiamo che è una sfida ambiziosa quella di riuscire a regolamentare questo settore. Servirà a qualcosa? Sicuramente dà delle indicazioni importanti, poi se ho interpretato bene quello che è stato raccontato a proposito dell'AI Act ci saranno anche delle contestualizzazioni, quindi dei regolamenti più specifici anche stato per Stato che potranno essere utilizzati. Dà delle indicazioni perché stabilisce alcune regole importanti che servono a salvaguardare i diritti delle persone. Quello che c'è, il timore che possiamo avere è che i tempi di realizzazione e di attuazione di questi regolamenti sia troppo lento rispetto allo sviluppo dell'intelligenza artificiale perché abbiamo visto già che dalla nascita di ChatGPT sia oggi, quindi in due anni sono successi, lo scenario si è evoluto molto rapidamente e quindi bisogna secondo me mettere a punto degli strumenti anche veloci per poter adattare questo regolamento via via che succedono cose, via via che ci sono novità, via via che si affacciano nuove situazioni, nuovi rischi che oggi non sono prevedibili, che sono magari disegnati ad ampio spettro nell'attuale versione delle IACT dando spazio appunto a questi aggiornamenti ma bisognerà poi intervenire in tempo utile per poterli affrontare e con la stessa precisione e rigore che si vuol porre già da oggi le IACT. Ecco Thais, la sicurezza è centrale anche quando si parla di industria, viene in mente ad esempio il mondo della robotica, della Internet of Things, che consapevolezza c'è dei rischi in questo settore? La consapevolezza purtroppo è ancora bassa, uno dei dati di un paio d'anni fa è che il numero di attacchi più alto è stato fatto proprio nel mondo dell'industria, nel mondo delle fabbriche, non in altri settori come la finanza, come la pubblica amministrazione dove magari lì un attacco fa più notizia. E le nostre fabbriche, se è vero come abbiamo detto prima che in Italia, per quanto riguarda l'Italia parliamo del 55% del Pio del Paese, proteggere le nostre fabbriche vuol dire proteggere il punto una parte importante della nostra economia. La consapevolezza è ancora bassa, soprattutto da un punto di vista della capacità e dell'informazione che le imprese oggi hanno nel andare a capire quali siano i rischi. C'è un tema di consapevolezza, c'è un tema anche di skills, di competenze. Il fatto di non saper gestire un attacco in qualche modo fa sì che, lo dico in maniera se vogliamo così un po' diretta, uno faccia finta che il problema non esiste e quindi in qualche modo poi gli attacchi quando si sono verificati sono stati ancora più dannosi. Un altro tema è che spesso gli attacchi non sono neanche così palesi e quindi si creano apparentemente dei guasti nel nostro sistema si fermano gli impianti e non capiamo per quale ragione questo sia successo. C'è un tema di perdita di produttività, c'è anche un tema di sicurezza delle persone. Se noi immaginiamo che un robot a un certo punto, tra virgolette, impazzisca e cominci a muoversi, un robot collaborativo che opera insieme alla persona e cominci a muoversi in maniera non controllata, questo rischia di avere un impatto sulla salute delle persone, sulla sicurezza fisica delle persone. Noi nel progetto Made in Italy Circolare Sostenibile, che è questo progetto finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che vede 13 università e 12 aziende presenti, lavoriamo proprio anche su questi aspetti. De Paoli, insomma, il mondo del cybercrime attivo più che mai, immagino anche nell'utilizzare l'intelligenza artificiale. Il mondo del cybercrime è sempre un passo avanti all'innovazione digitale che vediamo nei nostri giorni. Già 15 anni fa esistevano dei sistemi as a service che permettevano a chi non aveva nessuno skill per in qualche modo commettere un crimine digitale e informatico di usare questi servizi, usufrirne, pagandoli magari con valuta digitale per poter poi sferrare attacchi. Oggi, faccio due esempi, esistono due tool che si chiamano FraudGPT e WarmGPT. E potete immaginare che cosa possono servire. Il nome non lascia presagire nulla di buono. Di fatto sono strumenti che possono essere utilizzati, per esempio, per sviluppare email molto più sofisticati di quelle che ricevevamo fino a qualche anno fa, sgrammaticate, poco anche credibili, per effettuare degli attacchi molto più efficaci, studiando anche, per esempio facendo analisi sui social, gli individui e facendo in modo che quel tipo di attacco sia effettivamente molto efficace rispetto alla persona che in qualche modo riceverà questa informativa. Quello che vorrei ulteriormente specificare è che questa velocità con cui il cybercrime si muove, che ha ovviamente come primario obiettivo quello di di fatto lucrare, quindi avere di fatto un beneficio monetario rispetto a queste attività, è che questa consapevolezza di questo mondo è ancora molto lontana. È nota alle persone che come me fanno questo tipo di mestiere e come tutti quelli che operano in questo mondo, ma diciamo noi che siamo in questo settore dobbiamo fare lo sforzo di declinare gli impatti di questi rischi a chi oggi ha una responsabilità di business. E questa forse è la sfida più importante, cioè questi rischi sono adesso maggiormente percepiti, ma non c'è ancora un colloquio, un dialogo efficace che permette a chi oggi ha una responsabilità di prendere decisioni per cercare di investire e effettivamente riuscire a in qualche modo prepararsi, perché di fatto gli attacchi ormai siamo tutti consapevoli, il rischio zero non esiste, è importante saperli affrontare quando arrivano. Ecco, le organizzazioni sono ancora molto indietro da questo punto di vista, c'è bisogno di fare questo tipo di attività nei prossimi anni. Corchi, tornando all'AI Act, in che modo influenzerà lo sviluppo della AI generativa, soprattutto nel mondo dei servizi? Chiaramente, come diceva bene la professoressa, c'è un tema di inseguimento tra innovazione e nuove tecnologie e il quadro regolatorio. L'AI Act ha avuto un percorso che è stato in qualche modo esteso, proprio per poter inserire all'interno del quadro normativo una regolamentazione specificatamente dedicata alle tecnologie generative. In particolare ci sono due aspetti che vengono in qualche modo normati. Da un lato la trasparenza di coloro i quali sviluppano i modelli cosiddetti foundational model, quindi il cervello dell'intelligenza artificiale generativa, la trasparenza sui corpus documentali che vengono utilizzati, cioè sui dati che vengono utilizzati per addestrare questi modelli e dall'altra parte chi ne fa uso deve intraprendere tutta una serie di procedure e di controllo di quello che sono il risultato prodotto dai modelli di intelligenza artificiale generativa. Stiamo parlando effettivamente di una nuova tecnologia di intelligenza artificiale che, come dice la parola, è appunto generativa. Sostanzialmente immaginiamoci questi foundational model inizialmente come dei cervelli dei bambini vuoti che vengono addestrati con tutta una serie di conoscenze per poter poi rispondere a degli input che possono essere testo, immagini o video. Chiaramente diciamo una delle cose di cui si sta parlando più spesso relativamente all'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa è tutto quello che sono le forme di allucinazione prodotte dalla tecnologia. In realtà, da un punto di vista tecnico, mi lasci dire, se vogliamo, è un attimo misleading, nel senso che questo tipo di tecnologia è per definizione allucinativa, cioè nel senso che genera allucinazione per definizione, genera per definizione contenuto originale e innovativo rispetto a quello che è il corpus documentale con cui viene addestrata. E quindi è chiaro come il regolatore debba comunque cercare di inseguire tutto quello che avviene nello sviluppo e nell'utilizzo di queste tecnologie in modo estremamente tempestivo, come dicevamo poco fa. Soprattutto quello che vediamo è anche nell'adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa una velocità che non avevamo con quelle che erano le tecnologie tradizionali. Noi siamo passati anche come azienda dallo sviluppare per i clienti soluzioni di tipo diciamo più di ricerca e conversazione a soluzioni che invece adesso stanno iniziando a mettere in connessione e in comunicazione tra loro diciamo bot, cioè applicazioni di intelligenza artificiale generativa per andare ad esempio a creare nuove economie di servizio dove una persona ha il proprio avatar, chiede al proprio avatar di voler comprare una bicicletta, il proprio avatar, e non sarò più io, va a cercare le biciclette sui siti di coloro che vendono biciclette dialogherà con gli avatar e quindi con i bot dei fornitori del prodotto, del bene, del servizio per restituirmi un risultato. Tutto questo chiaramente ci mette in una situazione di evoluzione e diciamo di tipo esponenziale rispetto alle cose che possiamo immaginarci oggi come servizi per i cittadini ma anche per le aziende. In questo senso diventa particolarmente rilevante come e quanto la regolamentazione saprà in qualche modo inseguire anche l'evoluzione tecnologica. Tais, torno a lei perché si parla della cosiddetta industria 5.0. In che modo si intreccia con il mondo della sostenibilità? Industria 5.0 non è nient'altro che un'evoluzione del concetto di industria 4.0 a cui siamo stati abituati per anni. Vuol dire non solo utilizzare le tecnologie digitali per connettere le macchine, connettere gli impianti, raccogliere dati ma vuol dire portare in aggiunta a questa dimensione prettamente tecnologica due altre dimensioni. Una è quella della sostenibilità quindi il 5.0 ingloba il concetto di sostenibilità a 360 gradi e l'altro sostenibilità ambientale. e l'altro è quello dell'uomo al centro e quindi se vogliamo della sostenibilità sociale. Quindi in qualche modo vuol dire il compimento di un disegno che avevamo ipotizzato un po' di anni fa della convergenza tra la transizione digitale da un lato, l'uso delle tecnologie digitali come il metaverso, come l'intelligenza artificiale, come l'internet delle cose, il cloud, i big data e dall'altra parte in qualche modo il fine per il quale queste tecnologie vengono utilizzate cioè quello di creare un prodotto più sostenibile, un mondo migliore che sia più sostenibile da un punto di vista ecologico ma un mondo in cui la sostenibilità sociale, cioè l'uomo al centro sia anche un protagonista dove quest'uomo al centro non è solo l'uomo al centro negli ambienti di lavoro nelle fabbriche, quindi ambienti più sicuri ma un uomo al centro anche nei prodotti quindi noi oggi dobbiamo immaginare che gli adolescenti se proviamo a interloquire con loro non si ritengono più solo esclusivamente dei nativi digitali come li abbiamo chiamati per anni ma si sentono anche e soprattutto dei nativi sostenibili l'approccio che hanno verso la sostenibilità è un approccio molto esigente sono intransigenti direi rispetto al fatto che i prodotti del futuro e i servizi del futuro debbano essere sostenibili ma lo sono anche in una maniera consapevole non è solo una visione romantica di un mondo migliore quella che hanno ma è una visione consapevole, sono perfettamente informati su che cosa voglia dire usare e comprare un prodotto verde, chiedono informazioni nel senso che noi stiamo facendo un lavoro con un'azienda in cui arriveremo a stampare su ogni confezione di un prodotto una sorta di tabella nutrizionale a cui siamo ormai abituati in cui in realtà però i dati sono quelli relativi all'impatto ambientale la CO2 prodotta da questo pacchetto di questo prodotto, di questa confezione e questo vuol dire che il dato raccolto lungo l'intera filiera di quel prodotto l'intero ciclo di vita di quel prodotto diventa un elemento fondamentale per vendere il prodotto stesso e quindi i dati però io li raccolgo con le tecnologie digitali di prima, quindi ecco che in questo modo noi andiamo a compiere a chiudere il ciclo tra questa transizione gemella, ripeto, il digitale da un lato che diventa il miglior abilitatore per la sostenibilità di oggi e del futuro De Paoli, prima ci parlava di come il cybercrime sfrutta l'intelligenza artificiale la buona notizia è che è una tecnologia che viene utilizzata anche in difesa Certamente, effettivamente questa è una buona notizia e come diceva la professoressa all'inizio, oggi grazie al fatto che possiamo raccogliere una quantità di dati molto elevata e possiamo elaborarli per esempio osservando quello che accade, non solo nelle nostre aziende probabilmente in intere filiere, pensiamo per esempio al mondo dell'energy in cui ci sono tantissimi attori nel mondo grid che collaborano e che effettivamente poi erogano un servizio che non è più governabile dal punto di vista anche della continuità da un solo attore per quanto diciamo ce ne siano alcuni che controllano l'intera filiera la scommessa è riuscire a portare questi dati dell'intera filiale in sistemi che possono attivare algoritmi di artificiale intelligenza in grado di monitorare il comportamento di quello che accade ovviamente questo comportamento va sempre confrontato e quindi l'intelligenza da dove arriva dall'osservazione di quello che accade nel mondo del cybercrime quindi non possono essere due mondi che possiamo scindere da una parte è importantissimo che le autorità e in generale tutte le organizzazioni che hanno questo mandato possono sempre monitorare quello che accade nel mondo del cybercrime dall'altra grazie a queste nuove tecnologie riuscire ad avere molte più informazioni magari mettere a disposizione anche degli organi che hanno poi anche l'obiettivo e hanno anche il potere di debellare certe pratiche visto che a livello privato ovviamente si può arrivare fino a un certo punto e questo sarebbe un dibattito lungo diciamo da affrontare su quanto ci si può spingere su quella cosiddetta offensive security per potersi difendere però certamente oggi c'è la possibilità di farlo ci sono attori anche noi recentemente abbiamo spinto proprio in questa direzione tutte le attività di security operation così sono chiamate in gergo diciamo queste attività stanno un po' cambiando pelle da un'attività gestita dalle singole aziende all'interno di quello che accadeva nei loro sistemi quindi una visione ormai limitata perché ormai sappiamo che il cloud di fatto contribuisce moltissimo a tantissimi processi che ormai sono digitalizzati ma non sono più controllabili diciamo dai data center della mia azienda dovrai andare a prendere i dati da tanti cloud provider diversi ecco questo nuovo modo di osservare i dati che rende possibile anche condividerli con tanti altri attori consentirà e consente già oggi di avere un buon livello di osservazione di quello che accade per poi poter reagire reagire anche in maniera automatica gli automatismi di difesa possono essere già oggi attivati senza che dietro ci siano persone esperte ma ci siano effettivamente sistemi che sono in grado di bloccare gli attacchi prima che questi arrivino a un punto tale da poter creare dei servizi seri per un tero paese non solo per l'azienda singola Ecco, prima ci parlava dell'importanza dell'AI Act secondo lei aiuterà l'Europa a essere più innovativa? E' un po' il discorso che facevamo anche relativamente alle tecnologie di intelligenza artificiale generativa c'è una tensione tra innovazione e regolamentazione e chiaramente va trovato un punto di convergenza perché entrambe possano coesistere rispetto all'AI Act si pensi che fino a pochi giorni prima dell'approvazione a inizio dicembre tre dei principali governi della comunità europea Italia, Francia e Germania spingevano affinché venisse adottato un codice di condotta affinché una regolamentazione così ampia un codice di condotta proprio per favorire l'innovazione delle aziende europee diciamo che rispetto alle intersezioni tra innovazione e AI Act ci sono punti, se vogliamo, a favore dell'innovazione e punti che invece lasciano qualche tema aperto a favore dell'innovazione è sicuramente la presenza di standard che consentono alle aziende di investire in un quadro di sviluppo e di messa diciamo a disposizione degli utilizzatori di servizi basati sull'intelligenza artificiale un quadro più stabile e quindi sostanzialmente che attira in qualche modo degli investimenti e al tempo stesso quello che pensiamo possa accadere per l'AI Act è un percorso simile al GDPR e quindi un percorso nel diventare de facto uno standard internazionale che ulteriormente accelera gli investimenti in innovazione dall'altra parte è chiaro che quando c'è un sistema di regole chi fa innovazione deve sottostare a queste regole e quindi tendenzialmente questo comporta che le grandi aziende abbiano le varie, diciamo Google, Microsoft, Meta che citava la professoressa prima abbiano qualche problema in meno le start-up, piccole aziende che invece devono fare innovazione all'interno di un quadro di regole potrebbero invece necessitare o dovremmo trovare come dare un quadro di aiuti di finanziamenti alle piccole aziende, alle start-up proprio per riuscire a spingere con la giusta velocità sul tema dell'innovazione quindi diciamo ci sono luci ed ombre ci sono tensioni, il dibattito è aperto stiamo parlando anche di un settore particolarmente inesplorato e quindi probabilmente entrambe le cose dovranno in qualche modo adattarsi l'una all'altra per potersi sviluppare nel miglior modo possibile Professoressa vorrei chiudere con lei spero con una nota di speranza visto che lei segue da vicino anche il mondo dell'istruzione della formazione se da quel mondo le arrivano segnali positivi per quanto riguarda la consapevolezza sull'utilizzo di queste tecnologie Ci sono diciamo due canali che si muovono su questo da un lato gli studenti che vengono spesso accusati tra virgolette di utilizzare chat GPT per farsi fare compiti a casa in realtà non è sempre così e c'è anche una parte degli insegnanti che hanno uno spirito più di innovazione che stanno più dietro a queste cose che cercano di introdurre l'uso dell'intelligenza artificiale nella didattica cioè di inglobarlo nella didattica perché si rendono conto che i cambiamenti sono radicali la didattica frontale non riesce più a rispondere a queste innovazioni che sono oltre che utili in molti casi è anche necessario diciamo fronteggiarle e saperle utilizzare sapere anche spiegare ai ragazzi come fare ad utilizzarli anche da un punto di vista critico perché come si diceva prima le intelligenze artificiali possono dare anche risposte sbagliate poco corrette o addirittura assurde quelle che vengono chiamate allucinazioni e bisogna far capire a chi usa l'intelligenza artificiale primi tra tutti i ragazzi che bisogna un po' conoscere l'argomento che si sottopone all'intelligenza artificiale per poter valutare se le risposte sono corrette plausibili o se vanno in qualche modo verificate da questo punto di vista aiutano quelle intelligenze artificiali che fanno riferimento alle fonti da cui hanno attinto perché questa indagine è più facile d'altra parte questo spirito critico manca un po' in generale a tutti prova ne sia che tanti credono a quelle che sono le famose fake news le bufale senza approfondire e rendersi conto che magari sono notizie assolutamente infondate e inconsistenti quindi il percorso di adeguamento diciamo così all'interno della scuola è un percorso timidamente avviato bisognerebbe che la scuola riuscisse a gestirlo per evitare che i ragazzi vadano un po' così spontaneamente tra virgolette allo sbando nell'utilizzo di questa tecnologia se fosse invece un processo guidato e più consapevole se ne gioverebbero tutti come dico sempre per avere buoni cittadini digitali da domani visto che su quelli di oggi ormai ci possiamo fare un giusto affidamento grazie grazie alla professoressa Anna Vaccarelli e grazie ai nostri ospiti in studio Claudio De Paoli Marco Taish e Antonio Corgi e grazie a voi per aver seguito anche questo episodio del verde e il blu Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti